Il Movimento 5 Stelle a Lombardia ha presentato una proposta per una nuova legge elettorale regionale. Con la nostra proposta chiediamo che sia introdotto il ballottaggio sul modello della legge elettorale dei comuni. In pratica, se nessun candidato presidente raggiunge il 50% dei voti al primo turno, si scontra direttamente con il secondo candidato più votato. Visti i poteri di un presidente di regione, il ballottaggio serve a fornire una più forte legittimazione a chi dovrà governare. Chiediamo anche che il premio di maggioranza sia limitato al 55% dei seggi o, nel caso in cui si ottenga più del 60% dei voti, il massimo premio di maggioranza non deve superare il 60% dei seggi. In questo modo si garantisce una più equa rappresentatività alle minoranze in consiglio regionale. Infine chiediamo che sia reintrodotta la raccolta firme anche per i gruppi già presenti in consiglio regionale, per restituire parità a tutti i partecipanti alle elezioni. Come tutte le nostre proposte di legge, anche la legge elettorale ha avuto un periodo di discussione sul sistema Rousseau. Grazie a tutti!